Siiii today, a world we couldn't see, before I say goodbye to you, one more life to respond! Se riusciamo a scoprire il segreto del suo potere, potremmo riportarti a casa! Ehi, il sensore ha rilevato Eggman, sbreghiamoci! Salve raga e benvenuti in questo nuovo episodio! Ah! Posso usare... cosa... Sonic... Super Sonic? No, non posso usarlo, peccato. Allora, lasciate il like! Il segnale rilevato era da questa parte, quest'area non è ancora stata danneggiata, ma il nemico è qui intorno! Sarai bene a stare in guardia, Sonic! Lasciate il like, raga, condividete, mi raccomando! E lasciate un like! Allora, una domanda! Secondo voi, come sarebbe... come sarebbe Sonic... ripatto in questo modo, ovvero i Sonic... del... del Siga? Eh? Cosa ne pensereste di un Sonic così ripatto? Secondo me sarebbe bellissimo! Chissà perché non... Chissà perché non... Chissà perché gli sviluppatori non... non è inutilemente questa cosa... Rifazziamo Sonic del Siga Mega Drive proprio in questo modo... Vedo del deserto, Luigi! È Green King, giusto! C'è qualcosa di su... Ehm... Ok... Devo andare indietro... Sto capendo... Ah... ok... Ho capito, ho capito... Ah... ok... Ho capito, ho capito... No! Oh... 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 E che c'è quello. e adesso punto con Eggman un po' alla vecchia maniera e con questo l'eliminazione del prototipo del rubino fantasma è completa era un modello difettoso registrava soltanto il DNA di chi lo attivava solo un essere con la mia forza di volontà potrà mai attivarlo non importa ora il laboratorio è isolato a Mystic Jungle apra forse tu non ti sei imbattuto in Sonic dopo la sua fuga? si ma non aveva speranze contro di me non è una fonte di preoccupazione quindi l'hai lasciato vivere? questa è una grande fonte di preoccupazione per te forse mi sconfigge da decenni io invece l'ho battuto al nostro primo incontro prototipo del rubino fantasma e Sonic Sonic è vivo cosa c'è? niente andiamo avanti con il piano ma certo e alla fine la resistenza sarà ammientata il mondo non sarà il profecello da cui finalmente si ergerà la gloriosa Eggmanlandia e la resistenza si piegherà al potere del rubino fantasma saranno tutti sottomissimi ehi cosa? tu? non ho tempo per te lui non è d'accordo su questo questo potere supera persino le mie aspettative mi spavento da solo a volte ciò vuol dire che hai sbagliato i calcoli per me significa fallire superare le aspettative invece di genio supremo ma non mi aspetto che tu capisca bene alziamo il livello aspetta che questa cosa è un po' tipo alla Super Mario aiuto forse la Super Mario è anche un po' alla Kirby questa cosa per esempio per essere un mini Sonic in un'altra dimensione Left Dragon ha perso solo il 10% della sua forza da combattimento e andai lo scoprirai molto presto vabbè poi ha perso anche metà vita quindi aiuto aiuto eh rimane è una pessima mia lo fai confitto non sarebbe soddisfacente schiacciarti qui comunque radunerò tutta la resistenza si si scappa scappa come lo solito un spin troppo facile si ce l'abbiamo fatta ah 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 ha che bello vedervi lottare come se aveste una chance siete così adorati quasi quasi mi dispiace che non potremmo più fare questa specie di balletto insieme in soli tre brevi giornate il mio piano è liberato se vuoi essere irritanti aspetta tre giorni e quali piani? Se me lo dico, non è più una sorpresa. Sai come si dice? Che l'attesa della fine è anche peggio della fine stessa. Forse in questo caso no. Questa cosa dei tre giorni mi ricorda... Dicevo, mi ricorda come in Sonic Heroes che Sonic stava portando, poi sono andati in Knuckles e Tails come stato di Eggman animato che diceva entro i tre giorni usero il pianeta. E' in grado di fermarmi? Secondo me era così che diceva il biglietto. Va bene, non importa. Ok Spina, ho un compito difficile per te. Mi serve che torni in città a salvare quei civili. Magari prima di questo un piccolo cambio di abito. Passeroide. Passeroide. Ok. 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 Ah vikingo. Ok. Grazie a tutti. Sì, va bene così. Siamo in lotta con i medici. Non possiamo cercare i civili al momento. Il top è il veloce, non possiamo s'accordere. Sei la nostra unica speranza, Spina. La salvezza è nera. La salvezza è nera. La salvezza è nera. Fuoco, 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 fuoco. Nessi un problema. Non è che faccio andare avanti, scusatemi. Non ho visto perché sono stati lì qua. Che stupido. Abbiamo sfondato le linee nemiche. Salvataggio in corso. Abbiamo stabilito una via di fuga. C'è un'uscita sicura. Grazie alla Spina le cose si stanno mettendo presto. Continuiamo così, ragazzi. No. Ok, ho stato morto, meno male. Tennevo il peggio. Vai con i fuochi d'artificio. Aggiornamento dal concetto. Il nemico è in fuga. Missione completata. Ben fatto, ragazzi. In senso che farei Sonic... Oh, lo faccio a lampo, eh. Rispetto agli altri giochi. Forse perché è un gioco veloce. Veramente notevole. Abbiamo ancora molto da fare. Ottimo lavoro. Sapevo che ce l'avresti fatta. Ci vuole fiducia in se stessi. Complimenti. Ma la prossima volta meno eroismi. Se no io ti figura ci bacio. Col cavolo che io ho accetto i aiuti. No, no. Ok, ragazzi. Prima di chiudere l'episodio. Altro cambio di abito. Allora. Perfetto. Sì, mi piace di più. Sì, mi piace di più. Eh, non si nota. Sì, mi piace. Ok, ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.